Grazie a tutti 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 activement au développement socio-economico e alla prospettura tant esperte per le paesibili popolazione della Guinée io ti chiede a ringerciare sinceramente tutti quelli che hanno di pronti o di luci hanno voluto fare le déplacimento e ho avuto per la riuscita di questa visita sovrapposamente ringerciate e veillez a exprimere ma profonde gratitudine alle autorità prefectorale di Kundara a tutti i livelli anche alle pazibili e lavorate popolazione di Kundara è l'occasione di ringerciare il governo guinéen a sa tête il colonel Mamadi Dunguia il presidente del CNRD il presidente della transition il chef dell'Etat il chef suprano delle armate per le loro efforts consenti conjuntamente con i partenari technici e finanziers in favore del sviluppo del sviluppo della Guiniera in generale e delle collectività di Kundara in particolare in questa periodo di rifondazione di l'Etat vive la Guiniera unica indivisibile vive l'unità nazionale io vi ringercii di rifondazione di mandorale le loro efforts consentitori è raffinazione di diretti allora non ho la più ringerciati grazie a tutto come delle delegazioni Ardo Kame delle delegazioni Ardibbe coordinazione di financierna Rupula Lunguia non ho la più perché vive la gualare a chiamare che inний chiamare delle delegazioni di fare l'Etat Buon appetito! Grazie a tutti. 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 dire che Kundala è un picco di chance. Kundala è un bel mestiere. Io ringrazio l'obiettivo della scuola che è venuto per atteggiare con noi l'onore e la prognostità e che ci domande all'Anza di culturare la fede e che siamo uniti in questa prefecture. Io ringrazio l'abbiamo. Grazie a tutti. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La voce sociale Vi interlocutore sociale Con una coordinazione articolata Qui vengono il rappresentante La sua presunzione europea 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 La mia famiglia è fatta alla loro Allo vado il suo progettivo Allo vado con le famiglie Allo vado con i pevori Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.